Questo è quello che accadrà quando Automatic Home verrà a casa vostra. Monteremo una staffa in acciaio sulla vostra basculante. Installeremo un binario di scorrimento sul soffitto a cui verrà collegata la porta basculante attraverso un braccio d'acciaio. Monteremo il dispositivo di sblocco di emergenza. Programmeremo i telecomandi ed i punti di fine corsa e daremo nuova vita alla tua porta garage. Grazie a tutti.